Grazie. Ok Ok Come on, now hit gun Questi qua vanno allineate con queste Ok Cavetta Ok, perfetto Vuoti in senso anti-orario Per aprire le sprague Puoi aprire le sprague Allineate Lì dentro No Bisogna metterla in linea Ok Is in Finish Ok 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 Il 1800 Il 1600 Il 139 Il 139 Il 1200 Il 1600 Il 1600 Il 1600 Il 1600 Il 1601 Ok Posso chiudere? Grazie